Salve ragazzi e benvenuti ad un nuovo unboxing di due giochi per la Xbox 360. Stiamo parlando di Deus Ex Human Revolution, la Augmented Edition, e di The Witcher 2 Assassins of Kings, la Enhanced Edition. Partiamo subito da descrivere il contenuto delle due versioni. In Deus Ex abbiamo una missione aggiuntiva intitolata Salvataggio di Rang, poi gioco e DVD bonus in cui sono inseriti il making of di 44 minuti, la colonna sonora, un fumetto, il trailer della conferenza E3 e lo storyboard animato. Poi abbiamo un artbook di 40 pagine dove sono inseriti dei designer e dei bozzetti. Poi va a variarmi, codice di variarmi. Poi per quanto riguarda The Witcher 2 abbiamo il gioco contenuto in due DVD, il cd della colonna sonora, la mappa del mondo e una guida alle missioni. Partiamo con l'unboxing di Deus Ex. Partiamo con l'unboxing di Deus Ex. Eccolo. Qui sono elencati vari contenuti. Lo apriamo. Qui abbiamo il gioco. E l'artbook. L'artbook è questo. I disegni sono fatti abbastanza bene, sia degli ambienti anche, come vedete, dei personaggi e più avanti anche di armi, munizioni, eccetera. E poi passiamo al gioco. Con il libretto e i vari codici dei vari contenuti digitali. Il gioco e il bonus disc con gli elementi che abbiamo elencato prima. Qui ci sono anche altri disegni. Poi abbiamo The Witcher 2. Il seguito di un gioco approdato solo su PC. E questa è la versione minima del gioco. Infatti vediamo che è la versione base per la Xbox 360. Ed è uscita solo questa. Insieme alla Collector's Edition. Eccola qui. abbiamo il gioco. Eccola. Poi abbiamo la mappa. La guida. Ecco. Una guida davvero ben fatta in italiano. Con parti anche di mappa. E questa è la mappa. Molto caratteristica. Con molte illustrazioni. Una leggenda. Continuo anche da quest'altra parte. Ecco. Passiamo all'apertura del gioco. Un attimo. Ecco qua. Eccolo qui. Il gioco. Eccolo qui. I vari dischi. Disco 1. Il disco 2. E poi il disco della soundtrack in versione fisica. Eccolo qui. Abbiamo il manuale di istruzioni. In bianco e in nero. Dove vi sono i vari elementi del gioco in questione. Grazie per aver assistito a questo unboxing delle due versioni di The Witcher 2 e Deus Ex Human Revolution. Mi raccomando seguiteci sul canale di YouTube Blackstar Console e anche sulla nostra pagina Facebook. Sempre Blackstar Console. In cui vi è anche l'indirizzo che vi collega appunto il link al canale YouTube. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.